Saresti pronto ad affrontare una trasferta all'estero per andare a vedere il tuo artista preferito? Se alla domanda ancora non hai risposto positivamente, rincaro io la dose. L'artista in questione è australiano, ha una one man band ed è alla sua prima esperienza live, seria, dopo anni e anni di album favolosi. Sto parlando di Midnight Odyssey, che si è affacciato in Europa per la sua prima volta dopo anni. Ma Frank, perché non sei andato a Centrale Rock di Erba, unica data italiana, tra l'altro con gli Enisum? In poche parole chi mi segue sa la situazione in cui sono. La data italiana era di domenica e soprattutto a Erba, che è lontanissimo. E dato che io lavoro nella ristorazione per me è stato più facile prendere due giorni di riposo durante la settimana. Quindi la data più comoda per me si è rivelata essere proprio quella Nantes, in Francia. Bro, te sto per chiedere una cosa mattissima. Ah, raga, buongiorno, non c'ho l'orloce. Vabbè, sottimo le 7 di mattina, quasi le 7. Io sto a fare, fra molte virgolette, colazione. Mori a Francesco, fra un po', i tuoi giorni di riposo, regà, non potete capire quanto cazzo mi servono. Sto scoppiatissimo. Probabilmente dovrò rinunciare a qualcosa, ma... De certo non sarà questo. Prima volta in aereo, ieri mi stavo a scordare i biglietti a casa, penso. Vediamo un po', come va. Poco contento del nome delle video, non tanti sei. Vediamo fra un po'. Allora, raga, sono le 7 di mattina che sto in piazza e non venivo in piazza, le 7 di mattina qui alla fermata, praticamente, da una vita. In realtà non sto a aspettare furma, ne sto a aspettare Francesco e me, non prendo. E abbiamo l'aereo... Le 10? Non mi ricordo se le 10. Vabbè, insomma. Quindi niente. Non vorrebbe arrivare tra poco. Però vorrei andare più in via. Ah, sì? Vado sempre a scampire. Regà, ci siamo, eh. Ci siamo. Quanto siamo cari, Ghi? Un momento, è su. Quanto siamo cari, Ghi? Porta. Ma tu sei pronto per sentirli parlare a questi? No, per niente. Ma ancora... Manco io. Andiamo qua. Manco di vedere. Cosa? Manco di vedere il nostro. Ma infatti il nostro, quale è? E vedi che c'è scritto l'orario di destinazione. Ma la voglia ancora. Vabbè, che ora ce l'avevamo? E il boarding era, c'è scritto ai 8.30, per cui potremmo tornare a quell'ora. Vabbè. Ovviamente all'aeroporto non potevano mancare i primi problemi, anzi, più che chiamarli problemi, appunto, forse dovrei dire la mia imbranataggine. Comunque, ragazzi, questo la devo dire. Eh, sono il pochionito, non staccio, guarda, non potete capire. Stavo un attimo al bagno, avevo messo il biglietto dell'aereo e l'avevo messo un tasco. Allora, alla certà, per tira, cioè, ho finito, dico fuori, torno da Francesco, vi faccio il biglietto, non lo trovo. Fatto, fammi andare a vedere se mi è cascato magari al bagno. Ma raga, mezzo al piscio. Mezzo al piscio, parco due, mezzo al piscio, meno male che c'era un altro biglietto Francesco che l'ha stampato il parco due. Assurdo, assurdo. Io mi piace, vedo che mi piace. Eh, mi piace. Ah, ragazzi, sto a leggere i nomi della roba che c'è sta andando, tipo le strade, no, sta roba qua. Le macchine dell'île. Rue del gigante. Poi c'è, che riso? Eh, Brad P. Mill. L'hôpital privé du complonso. Ma Victor Hugo non era un carciatore? Eh sì. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta, ce l'ho, ce l'ho, eh. Rue del culmier. Rue del culmier. Le rocce del fè. Rue del culmier. Lea non mi ha abassovai. No. Non mi ha abassovai. Non mi ha abassovai. Non mi ha abassovai. Non. Sì. Devo finire l'endofiore? No. Quando mi ricapita l'endofiore di te sul pianoforte? Ma che bel suono, rega, che c'è quel piano, poi dovete calcolare che a me non mi capita spesso di suonare pianoforte, pianoforte del genere, cioè a parte una volta a settimana quando vado a lezione, quindi suonare con un piano del genere, rega, ci sarei rimasto veramente a oltranza. Certo che dico, di tutti i punti, quella dell'American Express è davanti a l'imbattito. Davvero? Ma chi? Rega, calcolate che ci hanno appena fermato quelli dell'American Express. Perché quelli, perché te ci hanno la carta che sempre vi piacciono, però io mi chiedo, se tu vai e metti davanti a l'imbattito, ma chi è che si ferma? Perché di solito chi sta qui. No, che poi è bello. Ragazzi, se ne vengono i clienti dell'American Express, io, no, così secco. No, io stavo più delicato, io, però, guarda, però devo andare all'imbattito. Stavo a fare una cosa, proprio, stavo un attimo a sistemare una cosa su tutta la poligia, no. Io la capisco perché comunque faccio la... Sì, 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 no, per carità, pure io, ho un altro pianoforte, io comunque... No, no. Tocca al nare, tocca al nare. Ah, ragazzi, arrivato a Air France. No, no, no. No. Dovete sapere voi che io e il bro facciamo un sacco di battute sui francesi, ma troppe, troppe, troppe. Fate conto che questa è una delle più quotate, questa che vi sto per far sentire. E credo che comunque in questi giorni non è tanto il caso, insomma, di farne troppe, ecco. Da qua si riesca a vedere la linea Maggino e anche i tedeschi la girano. Con vostra propria sicurità, in caso di evacuazione, dovreste restare tutti i vostri bagaggi a mare a morto. Grazie a tutti. Allora, questo coglione, adesso lo faccio vedere, fa... Ma scendiamo così, ma scendiamo così, dai, non lo faccio vedere, secondo noi, come deve scendere l'aereo. Certo. E' questo. E' questo. Darkland Undersauron Spell. E' pure Blingardian, l'abbiamo citati. E' vabbè. Tutto questo è gigantesca. Si attosceva l'aria strana. Sì, sì. E poi ci fa pensare. Ok. Ora, proviamo ad indovinare qual è la prima cosa che ho fatto in Francia, appena sceso dall'aereo. Non credo che siano coincidenze queste. Comunque, tralasciando ciò, ci troviamo subito in una situazione un po' particolare e giustamente io ci tengo a fare una domanda al bro, una domanda molto particolare appunto. Amico mio, come te sei avanti qua? E' un po' fuori tu, perché sei sempre qui. Beh, una cifra fuori tu. Dobbiamo prendere il 38 e niente, dobbiamo prendere il biglietto. Allora, raga, stavamo dentro una sorta di com'era, un negozio che venneva roba un po' di... Relai, che c'è stato a prendere. Relai, relai, relai. E c'era pure la roba da mangiare. Io ho preso tutt'ora a mezzini che facevano, che è un schifo, però per pane gli metteva ansia a Francesco. Però ho visto una cosa... Raga, ho visto una cosa brutta. C'era tipo la pasta, a parte sta dentro il frigo, vabbè. La pasta con scritto Crispy Bacon. Com'o' sa'? Sì. Com'o' sa' è? Che cosa è? Ma... Vabbè, cominciamo male, eh. Cominciamo proprio male. No, malissimo. Bigliettini in più ai quali hanno i biglietti, ragazzi. Si è carcati. Comunque, dopo si è andato pure a Starbucks. Eh? Andiamo da Starbucks? Adesso. Passi via cacone. No, dopo, dopo. Dopo, dopo. Comunque voi non ci avete idea che prende quei biglietti, tutto il macello che c'è stato per capire come funzionava la macchinetta, fuori di testa, fuori di testa. Ma aspetta, no. Ma raga, ma quello è un semaforo? E poi poi quello è verde, ma che vuol dire? Ma siete matti, siete. Proseguite tutto spesso. Ma come funziona qua, oh? Ma... Sì, 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 sì. Il nostro francese è quello che è Victor Hugo, le Victor Hugo, le Victor Hugo Io e il bro siamo usciti adesso da casa Si, si va a fare spesa Si va a fare spesa Qua c'è una biocop ma Troppa biologica Per carità buona, eh, ma non mi pare il caso di spendere 50 euro Per mangiare stasera, quindi Noi troviamo il Carfurello Che saranno, Francia Eh, eh L'abbiamo pure visto, quindi Vediamo un po' Allora, dato che dobbiamo entrare nel mood Siamo qui in Francia O no È giusto Comunque, ragà, è assurdo È assurdo Da quando siamo arrivati Piove, smette, piove Senta, piove Sta piove E siamo rimasti bloccati con la spesa Cioè, io non c'ho parole, oh C'è manco l'ombrello, porca il figlio Che coglioni, oh Comunque, signori, questo è il tour della camera Della camera, vabbè Cioè, c'è C'è poco da vedere Cioè, veramente Vediamo un po' qua, va Ma bella sta Ma cos'è altro? Così, ma un po' meglio Bagno, bagno Dove è il bagno? Dove è il bagno? Eccolo il bagno, devo accendere la luce Il bagno Ed eccolo qua Niente È proprio Piccolo Però quello che dobbiamo fare Ci basta Abbiamo fatto spesa Non si mangia Vabbè, regà, tranquilli Qua, vorremmo cucinà Allora Io I fornelli a induzione Li ho usati all'estero sempre Ti spiego come funzionano Questo è il coso parcerne Che non funziona E fino a qua Già Ci sono riuscito con mille perinezie Prima di accendere Quando schiacci qui che dovrebbe andare Non va In tutto questo Guardate là dietro che cosa c'è Quei ravioli fanno schifo al cazzo E adesso li prendo e li butto nel secchio E niente, regà, non si mangia Dai, regà, che ci siamo riusciti 8 ore Comunque sarebbe bene alzarlo questo sopra Che cosa Il formello Quello sopra E' alzato Eh, sì Solo colpio? Sì, sì Perché io faccio diepso Inizia prima forte Poi al calare va giù Vabbè, vediamo Vediamo se funziona Poi guanciale Guanciale, sì 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 Che cosa mai Regà Almeno, cioè Non è guanciale, è peggone No? Odore di casa questo Mmmmmmm Ce l'abbia più No no, sicuramente Meglio dei ravioli Sicuramente è meglio dei ravioli Infatti la pasta Siamo riusciti a farli partiti I fornelli Che incredibile Allora, quello che ho avuto Il fondo Il fondo è l'induzione Che all'estero Ci sono andato qualche Proprio per la volta Ne ho sempre usati Tutti funzionano Vi giuro E anche in Italia L'ho usati E tu accendi Non sono i nostri Tu accendi Cosa Per accendere E poi dai più E poi spingi più o meno Questo Primo Devi selezionare il fornello Ma che cazzo Ma se Ma sono due Facciamo vedere Ma sono due fornelli Cioè, guarda Prima devi spingi qua E poi spingi Anzi a bassi Vabbè Comunque Comunque Dai 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 Siamo a fare Ovviamente Non potevano mancare I meme Francesi E Regà Io vi giuro Vi giuro Sono il primo che dice Vabbè ma tanto saranno tutti i luoghi comuni Provate a andare lì E Ditemi se Non vedete situazioni del genere Regà Avevo appena visto Una pischella Con un ragazzo Vi giuro Oh regà Vi giuro C'aveva due paquette Sotto la scella E una Mi sembra che c'è la Tipo sotto la scella Ma non tipo così Cioè nel senso che La teneva però Vabbè Ho fatto Franciete prego non ride Franciete prego non ride E lui non l'ha vista Per ma che palle Guarda Era una macchina La massima attrazione Di fin l'una Che abbiamo visto a Manta Perché ci ha avuto tempo E avevano un cazzo Ho fatto Poi dopo Franci Abbiamo appena visto La prima persona con le baguette Sotto la scella Ho fatto No ma che stai a dire La porta E lui se l'è persa Mamma mia Mamma mia Ragazzi Adesso Andiamo a provare I panini del Mecca In Francia Allora dentro Il Mecca ci siamo entrati Per vedere Allora C'è un botto di panini Ma una marea Ce li sono tantissimi Ma che non c'entrano niente Ma regà Peddina stronzata C'è sta il doppio filetto Che già non lo so chi sembra Ma che cazzo è Il filetto Normale Lì c'è il doppio filetto Ma che cazzo è Guarda una bandiera frescese Siamo in Francia eh Che dici se maniano il pesce Vabbè Ma che riesce C'è stanno Certi panini regà allucinanti C'è Vabbè Dovevo Dovevo entrarci solo per meme Mi spieghi pure per quella tizia Si Ci ha appena fermato Una tizia che Che Non potete capire C'è una piazza stranissima Eh si perché fa un po' come gli pare Comunque Deve raccontare Ecco che ha piaccia strana E' sta fontana maledetta Vabbè insomma stavamo a dire Allora Una tizia Una tizia francese Che Che fa E vabbè E ci dice qualcosa in francese Ma pure carina Gentile E io faccio Guarda perdonami ma Io ho fatto italian E lei mi fa Ah ma poi In francese Credo che abbia detto questo Ha detto un pochino In francese In francese In francese In francese In francese In francese E lei mi fa E mi ha detto Merci E se ne andava Io però dico Mi dispiace pure Di tutte le persone Che hai dovuto per me Proprio Tu italiani E niente Da vero Comunque Ragazzi Una figata Qua siamo arrivati al locale Questa via Questa via Lungo Il Lungo Il fiume E qua c'è il locale Con tutti i locali Ovviamente L'ardino americano Non può mancare Però vabbè Figo Figo Eccoci E lui E lui E lui E lui Allora intanto Francesco qua Se sta a beve una biretta Ah beh Allora Molto sempli Io la sento Ma sento sentire che ero Ho detto One One This Medium Pos Facile A dire Cioè Vabbè In inglese sono un classico bene Per cui Non da maiare Però Tanto se finimo sta biretta entriamo Allora Allora Franciere Dopo Ormai Quanto sarà una settimana Che siamo tornati Siamo andati 14 Oggi 27 Quindi 12 giorni Secondo te Com'è stato? Cioè proprio il concerto in sé per sé Mi ha valsa la pena Anna si affassa Trasperta che stava anch'io Armoni Cioè come è stato secondo te? Ma Allora Io praticamente Non conoscevo bene il gruppo come lui Ma a me non è che mi serviva grande Diciamo grandi cose Per me Vedere in generale il mondo Far viaggio Per me è top Beh bastava quelli E Conoscevo solo l'una The Midnight Odyssey Sono là A parte Il luogo Il luogo era spaziale Bello Perché Allora Fuori c'erano i tavolini Dava sul lungolo Loira Lungo Loira E C'era una sorta di banco con una biglieria E Scusate Una sorta di Birreria volevo dire Sono disintegrato Scusate E E E poi Se aprono Se apre da nulla Nero cancello The Mordor Che tra l'altro Non so se poi già l'ho detto Vedi Vedi Era piccolissimo Ma Sì Però Secondo me c'è de peggio Tipo per esempio quando siamo andati a Pomezia Mamma mia Mamma mia E Però sarà pure piccolo Ma il parco era gigante Sì Cioè per quello che noi normalmente vediamo L'acustica Fantastica Perfetta E Cosa da dire Agli angoli c'erano i cessi Per cui tu Se devi andare a pisciare Non ti devi fare tutto indietro No stai lì Per cui vai Ritorni insomma E L'atmosfera È proprio figa comunque Cioè Era tutta gente Non lo so È stato un po' come tutta la città Un po' come tutta l'ambiente Per cui Molto preciso Gente che sa Diverte però Rispettoso Era gente che C'era proprio Cioè se tu vai a vedere Midnight Toddy Ma non lo sei chiaro Sei uno che lo conosce Perché Midnight Toddy Non è uno così Cioè Per cui Non è De facile ascolto Poi tra l'altro Quindi Sei uno che Lo conosce Sei un fan Infatti Penso che sia stato Uno dei concetti più sentiti Da parte di tutti Perché poi Che poi questo sarà un inizio Perché poi Gli ho detto Visto che ci è piaciuto Siamo trovati bene insieme A viaggiare Ce ne saranno tanti Ne vorremmo fare altri Insomma Assolutamente sì E E il gruppo prima Cioè Ah ecco Primo gruppo Bello Cioè gruppo No è uno poi Era un one man band Non mi ricordo Questo si chiama Vabbè Comunque Un francese Marica Però Sto tizio Allora fa Una sorta De doom metal Coinfluenza e black È strano Perché pure su metal archives È doom Non lo classifica Allora Io un minimo di musica Un gruppo ci ho avuto per tre Allora E se doom Era doom De forza proprio Non ci so A me in realtà Mi sembra Classico Doom metal Coinfluenza Black doom Insomma Non è che ci sia Molto Molto figo Ha fatto un'unica canzone Che mi pare che è durata mezz'ora Ma è passata velocissima E il pezzo Piegliore è stato quando Lui a un certo punto Si mette in cinocchio E comincia a scrimmare Senza il microfono Penso che si è sentito Pure dall'altra parte Da Francia Porca la miseria Impressionante Bellissimo Bellissimo Cioè Questo sound è purtosto struggente Che Molto Molto doloroso Cioè Sicuramente qualche Influenza Depressive Perché Diciamo che il doom Comunque non è che sia proprio Sì Il doom ce l'ha nel Perché comunque Parla di decadentismo A volte di roba da funerale Tipo c'è il funeral Doom metal Insomma tipo Possiamo citare i funeral tears No per carità Però era molto Cioè Molto Cioè Molto da depressa Parliamo poi dai midnight odys Sì Io come ho detto Io non conoscevo bene il gruppo E Vi dico solo che Dal giorno dopo Cioè Che sono tornato Me li sono sentiti Quasi tutti i giorni Parco duro Perché È incredibile Allora È molto possente come sound Ma allo stesso tempo È molto pulito Quindi È particolarmente figo Non è normale Trovare un gruppo così Cioè Perché tende Tendenzialmente Non so Io per esempio Sono iper fan dei Rammstein Non c'entra un cazzo Col genere Sì Però La distorsione di Rammstein È riconoscibilissima Perché È potentissima Però È Al tempo stesso La trovo Piuttosto pulita Io parlo Del lielo De concerto Certo Certo Tu dici che cazzo E per farvi un esempio Pratico Però Nel senso Stiamo a parlare ovviamente Di un altro genere Anche Poi l'ultima canzone When Fire School Mi ha Travitto Ma l'ho sentito Ma l'ho sentita Penso 47 volte Mamma mia A parte pure Tornando sull'Evrio A un certo punto Guardavo When Fire School È diventato Il tormentone Del viaggio When The Fire Comunque Comunque Allora Io per quanto riguarda Midnight Toast E diceva Vabbè Io Era una bestia Cioè Raga Dei musicisti Te posso dire una cosa Che mi sono scordato Di titolo Di profilo Con quel tipo De cappuccio Che c'aveva L'altezza Sembrava Nergan È vero Cioè Assomigliava Tanto Magari dai video Purtroppo Non ho fatti pochi E da quei pochi Che si vedono Purtroppo Si vede male Perché c'era Questa luce blu Che era L'amorosa Che dava proprio Un'atmosfera Troppo luminosissima Veramente assurda Poi io stavo Sotto il palco Purtroppo Mi era puntata Proprio sul telefono Quindi si vedeva poco Quando Infatti facevo i video Vedevo proprio Che si vedeva male Però regà Trovamme davanti A La mia band preferita Black metal Tra le mie Cioè Diciamo che Midnight Odyssey Non è la prima preferita Ma tra le mie Tre preferite Regà Cioè È stato proprio Bello 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 Io speravo Che facessi Altre canzoni Speravo Che facessi Appunto Qualcosa Di L'album Che non mi ricordo Come si chiama Funeral of the Astrosphere Che in realtà Si l'ha fatto Ma ha fatto Tears of Starfire Che tra l'altro Vabbè Il tour si chiama Così Che non mi fai Tears of Starfire Va bene Ha fatto una scaletta Molto Varia Andato a prendere Canzoni Di Alcuni Album Che Io in realtà Ho ascoltato poco Di Biolume Qualcosa ha fatto Quando ha fatto When Titans Fall Mamma mia Mamma mia Lì so Con l'altro Sarebbe bello Un berl concerto Loro Con spalla Severoth Ma magari In questo momento Io so Iper in palla Con Severoth Ragazzi Andate a sentire Cioè Non c'entra niente Completamente Però So proprio Andato in fissa In una maniera Allora in realtà Se senti gli album Prima Sono belli Ma non è che siano così belli Questo Questo che ha fatto Adesso È una bomba Anche se io Ultimamente Ho notato che Sono fissato molto Corvette Metal Ucraino E russo Perché c'è sempre quella Allora Pure se facessero Glam Metal Ma belli lo stesso No Pure se facessero No Discorso Che loro C'hanno sta cosa Pure se facessero Glam Metal Tipo Steel Panther C'è comunque Una coscia Di disperazione Cioè Sempre Sta parte Boh Però Infatti Mo sono fissa Con quello Si dussato Ma Però Vabbè Penso abbiamo detto tutto Comunque Colazione da Starbucks Proprio siamo signori Oggi Siamo signori Allora regà Io ho chiesto Un cappuccino medio Alla faccia Del cazzo Penso che io chiedevo Grande Che cazzo Mi portava Fiammarco 2 Io mi c'ho una domanda Perché sento La pioggia Pure Essendo Effettivamente Si Regà Stiamo al cazzo Alla ricerca Del barattino Ho trovato Un po' De case Ho scelto De tutte le palme Ma Guarda Regà A parte che è gigantesco Ma non si trova Il pane Non lo so E a parte che si vende A parte il baguette Però Su Cazzo Aspetta Forse L'abbiamo trovato Vai Baguette Baguette Che vita Che vita De merda Ma se può Vivere qua Così Regà Cioè io Dai Porco 2 Davvero Cioè Il cappello Che vita De merda Che vita De merda Penso se mi scordavo Il cappello qua Ma quanto lo si cava Ci ho senza il cappello Stavo io A posto Ci ha preso L'autobus Siamo venuti Scende Siamo venuti Scende Il laudista Comincia ad aperte Le porte Eh sì E una povera Crista Francese Che è venuta La porta La porta Tipo io Che ci ha aperto La porta Io scendo Io ho fatto Thank you Poi ho fatto Grandi Comunque Vabbè Che sa che Noi Avevamo Di tre Scenzi Nel senso Però Sono un po' Con soccarussi Ci hanno trattato Sempre bene Poi Vi dico una cosa Allora In Italia A3 e 6 Strich Cioè Stop e poi A3 Devi beccare Uno che si ferma E poi lo ringrazio Questi Neanche inizi Ad attraversare Nel senso Solo che tu Ti avvicini Alle Se fermano Cioè La civiltà Sì ma è tutto così Cioè è tutto Organizzato Guarda Penso che la cosa Più o meno organizzata Che è stata È stata la scala mobile Che al contrario Che non funziona È un centro commerciale Questo è stato Il massimo Dell'inefficienza Che hanno trovato Davvero Davvero Raga Follia Vabbè 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 Io vado a vedere Il boccano Invece Ma vi cazzo Su Io dico Ma che scelta Che po' che va Poi pensando Ci ho detto Siccome ho preso Tre boccette Delicone francese Ho detto Sono liquidi Ci ho pensato Sicuramente È quello Vabbè Insomma Arriva Sto tizio Che mi controlla E gli faccio Guarda Sono sicuro In this is Faccio In sta cazzo De bag Bianca Cernico E lui mi fa No no Non è quella Vabbè Che cazzo Scusate Insomma A me apre La cosa mia Cioè Che poi è andato Mirato Per cui Secondo me Gli era detto Quella Che era Dall'altra parte Perché Cioè Quella che guarda I raggi X Perché è andato Dopo Mirato Su qua La borsa E non gli va bene E il dentificio mio Me l'ha messo D'entrare a bosta Va bene Ho shampoo mio Eh no Ho shampoo un secondo Eh no Per il detonante mio E faccio guarda Che però Ho portato tre volte A Roma E tu volta a Madrid Eh non è possibile Io ti giuro Che così Gli ho detto Eh no Fidate Fidate te ne Ho tre volte Ho presa Un po' così In inglese In romano No vabbè Quindi Torno a Roma Senza Il detonante E senza Ho shampoo Ma vabbè Succede Ma te ne accorgi Che sei tornato a Roma Casino Di mortacci tua E Le macchine Che in se fermano Tutto Tutto Cioè Rega Stiamo a casa Rega Stiamo a casa Rega Siamo appena scesi Abbiamo fatto Oh mi raccomando Francesco Mi raccomando Daniel Aspetta Che qui Sulle strisce Non si fermano Un conto Appena detto Sta cosa Un cotral Che stava per mettere sotto Il cotral Il cotral Vabbè Sarebbe Il pullman Dele lunghe recorrenze Del Lazio Vabbè Il cotral Non si ferma La gente che suona Mortacci tua I mortacci tua Siamo tornati a casa Siamo tornati Rega Poi l'aria di casa Si sente Che L'aria di Roma È bella scrocchiarella No Quindi Rega Bentornato a casa Sì Comunque Se vi posso Dare un consiglio A me Che personalmente Mi piace molto Viaggiare Voglio vedere Pezzi del mondo Uno magari Pensa Ah però Vai solo un giorno Vedi il cazzo Ma non è vero Rega Se ti applichi Vedi E cose Comunque posso dire Meglio un giorno Che in cazzo Perché È meglio che tu Te vedi una giornata Qualcosa Anche perché io In Francia Non ce l'ho mannato Tanto rega La sera Cioè la sera Per il concerto Tutto il resto Non è un po' di girattito Io in Francia Non ce l'ho mannato Ora Non è Parigi Tutti sappiamo Che Ci arriva anche da voci Che i Parincisi Sentrò più francesi Che i francesi Per cui Però Nante Rega Invece No Ci ha assolto A braccia aperte Cioè Proprio Non me l'aspettavo E manco Cioè A parte che è splendida È di una bellezza È di una precisione Una pulizia E poi tutti Sono disponibili Tutti E un altro po' Lui Se n'era per me Per davamo L'autobus E vanno all'aeroporto Tanto ne passavano Però Diciamo che lì Non facevi un tempo Neanche a prendere Il biglietto Che passava Un autobus E poi ne ripassava Subito un altro Dopo un minuto e mezzo Stessa cosa Di tram Tutti nuovi Tutti puliti Non ho fatto un tempo A far biglietto Sti cazzi E me ne passano Haimo sbagliato Tutto forte L'autobus Se puoi scesi Ripassava un altro Già Cioè Cosa incredibile Ma noi se ne sogniamo Ma noi se ne sogniamo Guarda forse a Milano Forse Nord Italia De più Però Ma soprattutto a Roma È proprio Cioè Raga In inglese Anna Con i mezzi Comunice a Roma È proprio un caccio Nel culo Con una punta De diamante Mamma mia Però Questo è Insomma Questo va bene Questo è Questo Che tocca Per rispire Adesso Cioè Bro che Vuole ancora Puntualizzare qualcosa Tanto c'è Modello Però Una cosa che io Vedo Sulla storia Che sta Il mondo È grande No Stanno Il mondo È grande Ci sono Sangue Che Mi spiegate Perché Un italiano Medio Del cazzo Deve Andare Sempre In Spagna Sempre A Malaga A Barcellona A Barba De Ma perché Non fai Che non Non Tra Cioè Non perché Ci puoi Andare Cioè Poi Sono stato In Spagna In Spagna E' stato A Madrid A parte Che sono stato A Madrid Non a Parma Maiorca Non a Bachelone A Palaga Però Nel senso Perché Cioè Non è andato A Capodanno E Cioè 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 C'è C'è Stato A Vede In Spagna Tanto De Quei Eh Per Sicure No Spagna Apure C'è Stato Però Porca Puttana Ma Perché Per Cioè Perché Per Italiano In Sì Cazzo De Spagna Cioè Noi Per esempio Siamo Andati Lì Non Non so Le date Che c'erano Eh De Midnight Però Siamo Andati A Nant Sarebbe Stato Fico Nassere A Tolone Però A Tolone Era difficile No Era Infattibile Non si poteva Fara Cioè Cioè Andavano A Marsiglia Poi Da Marsiglia Sono stati Ma Tolone Raga Sonava Tipo In una Chiesa Cioè Raga Io Quello Era Il concerto Definitivo Però Per Lì Sì Noi Siamo Andati A Nant Potevamo A Parigi Io Io Diciso Andavo A Praga Così Spizzato Però Io Con il fatto Che sto Fan Master Serale Mi Seincastrava Però Nant Però Nant De Cap Però Cioè Di Galità Io Sono stato Contento Così Perché Io In Francia Ce ne ho Bastato Poi Sono stato Contento Proprio Io Sono stato Con questo Ad aggiungere Un altro Paese Che ho Visto Austria Svizzera Germania Spagna E Cono Giuntrani Io Dalla Prima Quest'anno Si fanno Oppure Del prossimo Ancora Spero Che questo Video Vi sia Piaciuto Nonostante Tutto E Possiate Perdonarmi Ma La mia Intenzione Era Proprio Questa Il Farvi Vivere Con Me E Il Bro L'avventura In cui Ci siamo Gacciati Oltre Al Concerto In Se Per Sì Che È Stato Bellissimo Tra I Più Disparati Meme L'acqua Che Abbiamo Preso Di Non Vi Ho Parlato E Tanto Tanto Altro Questa È Sicuramente Stata Una Delle Avventure Più Belle Che Abbiamo Mai Fatto E Nonostante Siamo Stati Solo Poco Più Di 24 Ore Ho Molto Da Raccontare In Futuro Grazie Per Essere Arrivato Qui E Per Avermi Ascoltato Per I Più Temerari Lascio Una Bonus Clip Di Con L'avventura Che Abbiamo Passato La Occupare Ho Già In Mente Per Chi Chiamarti Voi Non C'avete Idea Voi Non C'avete La Minima Idea C'è Francesco Che Ieri Mi ha Tirato Le Devo Faccio Di Ci No Easy Jet C'è Per No Mica Per Quello Perché C'è La Prima C'è La 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 C'è 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 Facciamo Tutto Le Demo Fa Quindi La Sera Innamor Viene I Mid Toti De Qua D' Prendiamo l'ultimo autobus disponibile, io ho bevuto un litro per birra ma stavo a... non lo so, mi volevo tagliare l'oretra Arriviamo a casa e lui mi diceva, a me mi rancano, io ero stanco l'anno Ah, io ora voglio mettere i puntini su lei, a che ora abbiamo mangiato? Presto, prestissimo, avremmo mangiato di poi sei, siamo arrivati a mezzanotte, ci potevo avere fame No no no, ma c'è stava, avrei mangiato io, però ero stanco, e lui gli faceva un PR Mac, vabbè perché avevo messo sai, sapete Just Eat Deliver E praticamente Just Eat ne esiste Delivero, delivero regà calcolate che chiudeva una certa E io gli dico, guarda c'è sta però Uber Eats Io tra l'altro Uber l'applicazione ce l'ho, fatto vai, è nostro Lui prende sto panino che c'è solo in Francia nel Mac 280 grammi che non c'avemo E gli dico vabbè dai, siccome io ho fatto, purtroppo per l'allergia che ho, potevo mangiare solo le patatine in Francia Patatine e coca cola io ho, perché in Italia potevo prendere solo le nuggets Si patatine e coca cola io stavo a lasciare lui, io mi mangiavo il panino insomma Allora insomma, succede che lui fa l'ordine e gli dice all'una in quarto All'una in quarto era fattibile, se lo doveva fare Cioè venti minuti dovevamo aspettare Questo però non arrivava mai, cioè Non è mai arrivato Ha cominciato con l'applicazione ad allungare sempre di più Sempre di più, sì A un certo punto due e un quarto Due e dieci Due e dieci Due e dieci erano Le patatine ragazzi erano Silicone con un retro gusto strano No, facevano proprio schifo A coca cola era zucchero liquido Com'è più o meno Ehm E poi vabbè se mi addormento Devo dire la verità c'era un divano letto che Sembrava veramente meglio Poi sarà che ero stanco ma veramente per me Ma il problema lo sai che era Il problema era che Porca miseria Questo non arrivava mai Noi eravamo storti E dovevamo, io stavo per mettermi a dormire Ho fatto a me non mi frega un cazzo Questo dovevo pure tenere il panino Non mi frega un cazzo Però raga questo non arrivava Non arrivava una certa Ma è arrivato per fortuna Tu che voglio far vedere cosa Avete presente i biglietti di qualsiasi cosa Treno Da noi Questo è un biglietto del Pullman De Nantes Ma che cazzo è? Non voglio non sprecare carta Per carità Tra l'altro Raccontamo pure quel pezzo che siamo saliti sul Pullman Siamo saliti da dietro Perché noi a Roma siamo abituati a salire da dietro Ah sì sì, siamo saliti da dietro E quello ci ha cazziato Ci ha cazziato Lui non aveva capito un cazzo Io ho fatto francese Tocca a scendere di salire da davanti E perchè ho sentito solo questo parlare in francese Quando poi sono salito da davanti Io ho fatto sorry Quindi Io l'ho detto in inglese Ha capito che comunque sia non eravamo nel posto E quindi ha capito Vabbè Questo è un po' due Cioè è proprio Precisi precisi Che va bene È giusto È giusto così Guarda Però guarda All'aeroporto questo mi ha messo a cattivo umore Sto bastardo Il mio dettorante Il mio dettorante Che poi in realtà sono andato a vedere Io c'ho una domanda Tecnicamente Lui c'ha ragione Perchè questo non lo sapevo benissimo io Però Io mi ero basato sulle esperienze miei precedenti Perchè avevo già preso l'aereo Tre volte Due volte Prima di ieri e di oggi E io mi ero sempre portato gli stessi saponi E nessuno mi ha detto niente Quando sono andato a Madrid Sia a Madrid che a Fiumicino Ieri Siamo andati a Fiumicino Nessuno mi ha detto niente Questo è andato a botta sicura Sulla cosa Sulla borsa di saponi mia E mi ha levato il dettorante E il sapone Io ti ho detto Guarda che so Tre volte che ho portato E lui mi fanno altri posti E io ho detto Di Romano No, fidate che invece ho preso E che cazzo Vabbè Comunque sono andato pure a cercare un internet Effettivamente Lui c'ha ragione Perchè più di 100ml Non ci può essere In un flacone di X cose Io avevo preso dei riguori Per tre amici mia Che effettivamente ho pensato Quello magari è quello E invece non è vero Me l'ha lasciati Perchè quelle boccette Sono meno di 300ml C'è uno proprio iper preciso Però io poi ho pensato Se io sono passato tre volte Con due cose che non posso sapere C'è una falla nel sistema Un po' che è meglio con Poca poca Perchè insomma Boh vabbè che io Porti al sapone liquido eh Però Vabbè comunque Comunque muovra un po' Un po' si imbarcava Sperando che non viaggi lì Rattentivo Perchè pure adesso Sta piovendo in un modo Il servono Il servono Il servono E il servono È un interno Questo è un'esercito C'è un messo E non lo ha fatto E non؟ È unよろcce